Guardate un po' Browning Cheesecake e Cacao! Oggi questa è la ricetta per voi! Per la base del Browning Cacao abbiamo bisogno di 120 grammi di farina, 2 uova, 80 grammi di cacao, 90 grammi di zucchero, mese a bustina di lievito, 120 grammi di burro, una teglia con la carta a forno, un sbattitore elettrico e la vanidina. Uniamo tutti gli ingredienti secchi, mischiamo con una spatola e poi aggiungiamo il burro e usiamo il battitore elettrico per mischiare bene. Mettiamo anche le uova, il burro e la vanillina. Nella teglia con la carta a forno versiamo tutto l'impasto e mettiamo a cuocere per 20 minuti a 180 gradi. Mentre si cuoce abbiamo qua amido di mais, un cucchiaino, 500 grammi di formaggio cremoso, 3 uova intere, vanillina, panna fresca 160 grammi, 90 grammi di zucchero e 200 grammi di ricotta. Mettiamo per prima la ricotta con lo zucchero, la vanillina, mischiamo benissimo, aggiungiamo un pizzico di sale e sbattiamo bene bene bene. Le uova mettiamo in una volta e continuiamo al battitore. Per ultimo la panna da montare, la panna fresca e continuiamo a battere finché diventi una crema un po' duretta. O meglio, una crema consistente. La crema è pronta, prendete il nostro browning che a questo punto sarà un po' freddito. Versiamo e facciamo cuocere a 50 minuti a 180 gradi. Dopo aver cucinato il nostro crema di formaggio, passiamo alla ganache, diciamo così. Prendiamo 160 grammi di panna, 200 grammi di cioccolato fondente a scale e li facciamo scaldare un attimo nel microonde e poi li mischiamo finché raggiungi una temperatura ideale per versare sopra la nostra torta che a questo punto sarà anche lei un po' freddina. Versate il tutto e cercate di lisciare il massimo che potete. Ragazzi, è un dolce golosissimo, meraviglioso, facile da fare come avete visto. e se non avete imparato, guardate di nuovo il video. Obrigada, un beijo e até o prossimo video.